Buongiorno amici, oggi è il 9 di gennaio, andiamo a fare l'analisi sulle cadere weekly per la settimana che va dall'11 alla 15 di gennaio. Come potete vedere non ci sono tassi di interesse nella settimana entrante. Partiamo con Eurodollaro. Eurodollaro vedete che avete preso questa resistenza che avevo segnato la settimana scorsa, adesso ha fatto un nuovo massimo, eccolo qua, adesso vado a metterlo in rosso questa resistenza e vedete che adesso siamo sempre in una trend rialzista, qualora il nostro Eurodollaro dovrebbe continuare al rialzo, dovrebbe rompere questa resistenza, potrebbe continuare la sua salita. Attenzione, non fatevi ingannare da questa, come si chiama? Scusate, eccolo qua, e lo sposto così, ecco qua. Non fatevi ingannare da questa pinbar perché è una pinbar che dice di, che fa, è al contrario, questa qua mi sa più di una pinbar, che è bugiarda, Pinocchio. Poi, se andiamo a vedere Eurodollaro sul grafico daily, vedete che, ha fatto questo più massimo, vedete che il trend rimane sempre al rialzo, sembra voler girare il un mese, però è ancora al rialzo, qui per il momento il trend rimane ancora per me long qua, allora dovrebbe rompere questo supporto dinamico, allora potrebbe continuare la sua riscita del premento, aspettiamo che rompa il massimo. La sterlina, la sterlina, vedete che la sterlina dopo aver fatto, ha fatto dei nuovi massimi, vedete che ha fatto questa settimana un nuovo massimo, per poi tornare al ribasso, una candela negativa, ha rotto il massimo, non ha rotto il minimo, il trend rimane sempre, a mio porere personale, ancora long. Il grafico annuale, fateci attenzione, la media docente, fateci attenzione, che sta rivolgendo verso l'alto, la media 21 verso l'alto, il premento trend rimane al rialzo. Vedete che il trend, anche sul grafico, come si chiama, daily, vedete che tutto è rivolto verso l'alto, il premento il trend rimane long, ci potrebbe essere stare una correzione, il premento, qui non faccio niente, chi vuole entrare deve andare in H4, per vedere dove entrare in base alla candela weekly. Il dollaro yen dove ero in profitto, sono tornato in, come si chiama, negativo, vedete che il dollaro yen continua sempre la sua discesa, vedete che se facciamo questo qui, guardiamo qui che ci fu una ventottesima candela, vedete che qui siamo alla 73, ma il trend rimane per me sempre al ribasso, siamo sotto la media 21, ho fatto una candela outside rialzista, potrebbe fare adesso andare a fare una correzione al rialzo, vedete che però la media, se guardiamo la media di un anno, due mesi, sono tutti rivolte verso il basso, potrebbe andare a prendere questo 104,700, per il momento qui tengo, non faccio niente perché per me il trend rimane sempre short, chi vuole entrare long può farlo e mettere come primo target 104,600, qualora anche 105,400, però per me rimane ancora short. Il dollaro canadese, lui invece questa settimana ha fatto una candela negativa, ha rotto al minimo della candela precedente, trend rimane sempre basso, io ho messo 1,25,946 come target, vedete che ci stiamo avvicinando, e il dollaro canadese sul grafico daily, vedete che è tutto rivolto verso il basso, aspettiamo, probabilmente è inutile entrare a mercato in questo momento, trend rimane basso, aspettiamo l'inversione. L'Australian dollaro ha lui nuovi massimi, vedete che è andato a prendere questo massimo, vedete che è la positiva, ho chiuso con una d'oggi, siamo a 78, per il momento trend rimane sempre long, e a UDUSD vedete che trend rimane solo long, per il momento qui è inutile aprire posizioni short perché tutto rimane ancora long, il prossimo target dovrebbe essere i 79. Andiamo a vedere adesso il dollaro messicano, il dollaro messicano dove io sono dentro, vedete che questa media 200 sta facendo da spartiacque, qualora dovesse rompere ora potrebbe scendere, comunque il trend, per il momento siamo sotto la media 21, il trend ha fatto ancora al ribasso, ha fatto una candela outside rialzista, per il momento io sono long, ho aperto una posizione long, per il momento sono in leggero profitto, e il dollaro messicano, eccolo qua, lo metto qua, il dollaro messicano sul grafico dei, vedete che sembra il mese girare al rialzo, il prossimo target potrebbe essere per questa pin bar qua a 20,66, eccolo qua, questo potrebbe essere il prossimo target, per il momento tutto rimane ancora però al short, un mese, due mesi short, però attenzione che l'annuale rimane al rialzo. Il KDIN, KDIN che segue, attenzione il KDIN che segue sempre gli indici, vedete che c'è stata qui una fase di lateralità, è andata a prendere questa resistenza dinamica, vedete questa qui, per il momento se dovesse romperlo, questo 82 potrebbe andare a prendere la media 283, per il momento trend rimane ancora long, perché vedete che qui ha partito un ciclo, se lo guardiamo qua siamo alla 43esima, potrebbe averlo chiuso qua, e qui mi aspetto un rialzo del dollaro IER canadese. Se andiamo a vedere il dollaro canadese sul grafico daily, vedete che il momento rimane al rialzo. Adesso andiamo a vedere l'ecrypto, andiamo a vedere com'è la situazione sull'ecrypto, andiamo a vedere Ethereum USD, vedete che Ethereum USD, nuovo record, 1192 sta continuando il suo rialzo, per il momento penso che l'Ethereum andrà a prendere il massimo, fare il pullback qui, eccolo qua, a 1420, questo potrebbe essere il prossimo target trend, vedete che tutto rimane al rialzo, e Ethereum USD, vedete che se lo guardiamo sul grafico daily, tutto è rivolto verso alto, si parla solo di long. Il Bitcoin, che siamo ormai a 40.279, nuovi massimi, nuovi massimi sul Bitcoin, guardate che candelone, due settimane siamo già qui, una, due, tre, quattro settimane di grande forza, e vedete che il Bitcoin sul grafico daily, si parla solo di long, vedete che questo è il nuovo massimo, che vado a mettere, per il momento continua la sua scalata, penso che il prossimo tag potrebbe essere i 50.000. Poi andiamo a vedere gli indici, eccoli qua, gli indici dove il Dow Jones, eccolo qua, continua il suo rialzo, vedete che il Dow Jones ha nuovi massimi, vedete che ha fatto questi nuovi massimi, e il Dow Jones, qui togliamo, eliminiamo questo, eliminiamo, e vedete che il Dow Jones potrebbe andare a prendere adesso i 32.000, vedete che questo è il prossimo target, 32.000, vedete che il Dow Jones, strano che è con dati negativi, il Dow Jones continua a andare long, soprattutto che ieri c'è stato anche un, come si chiama, il dato del non fan per all, a negativo, comunque continua il suo rialzo. Poi il DAX, andiamo a vedere il DAX, eccolo qua, DAX che anche lui, continua con il suo nuovo massimo, anche il DAX, per il momento il DAX si muove al rialzo, e se guardiamo il DAX sul grafico daily, vedete che tutto rivolto verso il nuovi massimi, vedete che il momento trend rimane ancora al rialzo, questo momento aspettiamo, non facciamo niente, poi dopo il Dow Jones andiamo a vedere il Nikkei, che dopo aver rotto questi massimi, vedete che continua il suo rialzo, Nikkei molto forte, sta a 28.000, e Nikkei continua anche lui la sua scalata al rialzo, vedete che anche qui Nikkei, il momento rimane sempre long, anche lui penso che potrebbe arrivare a 30.000. Dopo il Nikkei, io vi lascio, vi auguro ancora a tutti una buona notte, un buon weekend a voi e le vostre famiglie, e ci sentiamo martedì, ciao a tutti!